Una partenza importante, un avvio di stagione a dir poco super per il centrocampista olandese dell'Atalanta Tön Koppmeiners al suo secondo anno in Nerazzurro. E che l'inizio di questo campionato sia stato davvero top lo dimostra anche il fatto che Tön ha già eguagliato lo scorre della scorsa stagione. Quest'anno però per segnare quattro gol e servire un assist gli sono bastate sei giornate. Tre reti al Torino, gol partita al Vente Godi con Lella Sverona e assist per la marcatura di Demiral alla cremonese. I tifosi atalantini lo hanno apprezzato sin dalle sue prime partite in Nerazzurro. La passata stagione non è mai riuscito a vincere il Player of the Month, arrivando secondo sia nella votazione di dicembre 2021 che in quella di febbraio 2022. Quest'anno Tön ha già fatto il bis. I tifosi lo hanno infatti votato miglior giocatore atalantino non solo del mese di agosto ma anche di quello di settembre. L'appoggio e l'apprezzamento dei fan è sempre importante. Il Player of the Month è un'iniziativa in collaborazione con Italian Optic, azienda da oltre 30 anni specializzata nel campo dell'optica, un vero e proprio punto di riferimento di settore. Sono 17 i suoi punti vendita dislocati in Lombardia. È silver sponsor e sleeve sponsor del settore giovanile. Non solo dai tifosi, Tön ha ricevuto i complimenti anche dai fondatori di Italian Optic, Stefano Chiarla e Fulvio Rizzi. E nell'occasione abbiamo scoperto che Coop Miners apprezza molto gli occhiali da sole. Sì, mi guardo molto, specialmente qui in Italia perché il sole è riuscita molto, quindi ho bisogno anche in un'auto e quando sono in una città, quindi mi piace molto. La Serie A si è fermata ora per la sosta mondiale. In Qatar ci sarà anche lui, Coop Miners, convocato insieme al compagno di squadra e di reparto nell'Atalanta, Martin De Rhone. Sì, per me è un sogno di andare in una World Cup, è incredibile. Sparare in un paese è già incredibile, ma andare in una World Cup è un sogno come un figlio. È incredibile. Sì, per me è un sogno. Sì, per me è un sogno.